I farmaci biologici hanno rivoluzionato la terapia delle malattie reumatiche, sono in commercio da una quindicina d'anni, ce ne sono diversi e hanno realmente cambiato le prospettive di cura di questi pazienti. C'è però una seconda ondata di questi farmaci, sono ancora in fase di studio, qualcuno in fase 2, qualcuno già in fase 3 e ci ha dato una panoramica molto interessante su queste nuove prospettive di cura il professor Giovanni Minisola, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma e past president della società italiana di reumatologia. L'abbiamo incontrato a Roma in occasione del congresso nazionale della società italiana di gastro-reumatologia. Allora professore, qual è questa nuova ondata di farmaci biologici, cos'hanno in comune e quali sono le differenze? In realtà si tratta di farmaci che cercano di cogliere gli obiettivi non ancora colti dai farmaci biotecnologici attualmente a disposizione. L'obiettivo è quello di avere farmaci sempre più efficaci, farmaci sempre più assicuri, al fine di migliorare l'aderenza al trattamento. L'aderenza è una condizione indispensabile per ottenere il successo terapeutico. Lei ha fatto un po' una carrellata e io le chiederei di fare la stessa cosa con noi. Incominciamo da quelli che hanno come bersaglio l'interleuchina 6. Attualmente abbiamo un anticorpo specifico contro il recettore dell'interleuchina 6. Ci sono allo studio altri farmaci biotecnologici che agiscono contro questa interleuchina, sia circolante sia a livello di recettore dell'interleuchina stessa. Questi farmaci stanno entrando, sono appena entrati in fase 3 ed essendo l'interleuchina 6 una interleuchina fortemente coinvolta nell'immunopatogenesi dell'artrite romatoide è lecito ritenere che questi farmaci possano dare risultati auspicati. Ecco però visto che c'è già il tocilizuma perché l'interleuchina 6 è in commercio e il tocilizuma questi nuovi, che vorrei chiedere anche quali sono, che cosa promettono di più e meglio? Attualmente molti di questi farmaci sono in fase 3 e alcuni si prospettano come molto più potenti del farmaco contro l'interleuchina 6 attualmente disponibili, ma bisognerà aspettare i risultati degli studi preliminari per poter dare qualche certezza. Attualmente ce ne sono due che sembrano essere in fase più avanzata, i farmaci attualmente in studio numericamente sono 4, però siamo ancora nella fase assolutamente preliminare. Secondo Bersano Terapeutico è l'interleuchina 17, qui cosa bolle in pentola? L'interleuchina 17 è un'interleuchina che è coinvolta nei meccanismi che sostengono non soltanto l'artrite romatoide ma anche le spondiloartrite sieronegative. Alcuni studi con questa interleuchina sono in fase molto avanzata, alcuni sono mutuati da esperienze nella psoriasi. La inibizione dell'interleuchina 17 è prevista sia con un meccanismo diretto sia attraverso un meccanismo di tipo recettoriale. Anche in questo caso le prospettive sono buone con i studi di fase 2 hanno dimostrato l'efficacia dell'inibizione dell'interleuchina 17 sia nell'artrite reumatoide, sia nella spondilite anchilosante, sia nell'artrite psoriasica. Il terzo Bersano è completamente diverso, è un fattore di crescita, il GM-CSF. Come mai andare contro un fattore di crescita? Qual è la ragione farmacologica? Il fattore di crescita è un fattore che stimola la crescita di tessuto infiammatorio e quindi inibire la crescita di un tessuto infiammatorio è sicuramente un modo corretto di cercare di neutralizzare ciò che accade in corrispondenza di un'articolazione infiammata con una neoangiogenesi, qual è quella che caratterizza l'artrite reumatoide. Qui gli studi sono di fase 2, gli studi preliminari sembrano essere soddisfacenti, così come sono soddisfacenti gli studi che coinvolgono l'inibizione di una subunità dell'interleuchina 12-23, mutuando nell'artrite reumatoide studi che sono stati fatti con questa molecola nella psoriasi, lo stechinomab, molecola che si è dimostrata in questa malattia particolarmente efficace. Questi sono gli studi che riguardano l'artrite reumatoide, le forme artritiche, però in realtà i farmaci biotecnologici sono attualmente in fase di sviluppo anche in altre condizioni come il lupus, come la sclerosi sistemica, come l'osteoporosi. In particolare per l'osteoporosi c'è attualmente in fase terza in studio un anticorpo monoclonale antisclerostina che sembra essere particolarmente efficace stando alle risultanze preliminari degli studi di fase 2. Quindi c'è un panorama molto ampio, molti di questi farmaci vedranno la luce ritengo nel corso dei prossimi anni, che di fatto significa dire molto presto e ciò consentirà di personalizzare il trattamento perché l'armamentario si arricchirà e più è ricco l'armamentario e più sarà possibile individuare il farmaco giusto per il paziente giusto con quella malattia in quel particolare stadio.